Il presidente Cirio, insieme alla capogruppo della Lega Alberto Preioni, al sindaco Gianni Morandi e dall'esponente della Fondazione Cariplo Francesca Zanetta, è tornato alla cantiere del Palasport di Gravellona. La prima volta c'era stato a fine novembre. Ho potuto verificare, spiega il governatore del Piemonte, come i lavori siano andati avanti in maniera importante. Non posso che ribadire a chiare lettere l'impegno della regione a completare la struttura. Il Palasport è una risorsa di questo territorio e quel che inizia si finisce. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il capogruppo della Lega a Palazzo Lascari, Alberto Preioni. I lavori sono andati avanti benissimo, ora dobbiamo sciogliere il nodo relativo ai 150 mila euro del vecchio accordo di programma. L'impegno della regione, e mio in particolare, è a completare un'opera importante per tutto il VCO, il cui iter è iniziato più di 15 anni fa. In queste settimane cercheremo il modo e le risorse per una risposta definitiva, considerando anche che c'è una nuova legge quadro relativa allo sport per finanziare l'ultima azione delle strutture sportive. Entro metà luglio torneremo con il presidente a cantiere e contiamo di poter chiudere il cerchio l'analisi di Preioni. Soddisfatto il sindaco di Gravellona Gianni Morandi. Ringrazio la regione che ha voluto ribadire la sua volontà nel terminare l'opera, per la quale manca ormai davvero poco. I seggiolini, il tabellone in mezzo al campo, la centrale elettrica esterna e la sistemazione. Una grazie anche a Francesca Zanetta, interlocutrice preziosissima in passato, che ha già assicurato il suo interesse per possibili nuovi finanziamenti per il Palazzo Sport. Siamo in dirittura d'arrivo, vediamo il triangolo dell'ultimo chilometro, ma non possiamo alzare le mani dal manubrio perché non abbiamo ancora tagliato il traguardo.